Benvenuti, cari follower. Un fortissimo temporale si abbatterà domani sera, giovedì 2 novembre 2023, sull'Italia, con pioggia, neve e forti alluvioni. Ma prima di entrare nei dettagli e menzionarvi le aree specificamente interessate da questa tempesta, non dimenticate di supportarci mettendo mi piace a questo video, iscrivendovi al canale e attivando la campanella su tutte le notifiche. Quindi, i costanti aggiornamenti del centro meteorologico europeo indicano che un temporale molto forte si sta avvicinando al nord e al centro Italia, proveniente dall'Europa nord-occidentale. Questo temporale porterà con sé abbondanti precipitazioni, con il rischio di alluvioni, grandinate di grandi dimensioni, forti venti, un notevole calo delle temperature e nevicate sulle Alpi. Domani sera, giovedì, quindi, pioggia molto forte, con forti tuoni e rischio allagamenti su tutto il... Liguria-Piemonte-Valle, da Osta-Lombardia-Trento, Alto-Adige-Friuli-Venezia-Ghiulia-Veneto, Emilia-Romagna-Toscana-Marche-Umbria-Lazio-Sardegna. Questa tempesta raggiungerà il sud-venerdì. Cercheremo di informarvi in seguito su eventuali altre novità importanti e, alla fine, possiate rimanere in buona salute.